Benvenuti a tutti ragazzi da Soprò, benvenuti a Xbox One Ragazzi benvenuti come sempre Prima di iniziare vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto E metto un bel pollicione su ragazzi Su per questa serie, per supportare questa serie Come potete ben vedere ho gli pneumatici che sono andati a farsi benedire Sono tutti rossi Adesso ragazzi sapete che facciamo? Io andrei a fare un po' di... Io vorrei acquistare come potete ben vedere Allora devo spiegarvi che ho fatto Eccolo qua, giusto quello che volevo fare io Boom Praticamente ragazzi Ho dovuto, cioè ho fatto un video in territorio nemico Ma si era sbagato tutto, audio, video eccetera eccetera Quindi diciamo che... Ok Ah le macchine parcheggiate sono irrimovibili Praticamente l'ho perso tutto Audio, video, era messo male Risoluzione non so che cavolo è successo Deve essersi sbagata tutta la scheda d'acquisizione Che ne so io ragazzi Che di solito controllo Io faccio un due video a vuoto Controllo Sembrava giusto Ma si vede che forse perché doveva aggiornare Un driver che forse andava in conflitto Chi lo sa Chi lo sa ragazzi Ok ragazzi Io adesso distruggo definitivamente il camion Perché con tutti i soldi che ho fatto Poi ho fatto delle missioni anche off the camera Camion danneggiato Vabbè che il camion è danneggiato Ma chi se ne frega Perché noi ragazzi ci compriamo Un nuovo camion Quello rosso mi ispirava un sacco Costava 17.000 Ci avanzano 5.000 E quindi Che me ne frega a me Ragazzi Eccolo qui Io lo spacco tutto E il motore è buono però Lo voglio far diventare tutto rosso Camion danneggiato Solo danneggiato Non è gravemente danneggiato Perché in certi video Io non l'ho mai visto Il camion era gravemente danneggiato Scriveva Forse Dobbiamo andare un po' più veloci Vediamo un po' Andiamo a sbattere contro questa macchina Eccolo qua È gravemente danneggiato Perfetto ragazzi L'abbiamo gravemente danneggiato Perfetto Quello che volevo io Farlo diventare rosso fuoco Il motore però ragazzi È sempre una bomba Va sempre bene Quindi ragazzi Adesso finalmente Noi andiamo Nel garage Entriamo nel garage Vediamo quanto dobbiamo pagare Per i danni E ci compriamo Ma non lo aggiusto E poi ci compriamo Il nuovo camion Però ragazzi Secondo me Ci potrebbe essere Vediamo quanto devo riparare 360 Boh 300 euro di danno Tutto rosso Non è mica tanto Ok ragazzi Io prenderei Perché aspettaremo Questi qua Che si sblocchi Di sbloccare questi qua Ce ne vuole un bel po' Praticamente il top sarebbe questo Oppure Questo No questo Con più ruote Però Questo qua ragazzi È quello che sinceramente Fino adesso Che ho visto Ha più ruote di tutti Perché è quello che ha 8 ruote Guardate Quindi deve essere Penso uno dei migliori Penso e spero Quindi ragazzi Ce lo acquistiamo 17.500 euro Magari costasse così un camion Ragazzi Ad andare in giro Solo con un camion Io E quindi Ce lo andiamo ad acquistare Quindi Boom Personalizza Colori Motori Posso metterli Già Cioè già di base Parto a 350 Io prima potenziandolo Avevo 410 Mamma mia Che bestia che è Ho molti pneumatici Ma penso che cambiarlo È uguale Abitacoli XL Ah ecco 2005 però Vabbè Me lo tengo Parte posteriore Adesso bloccati Anteriore Sono tutto bloccato Colori Tutto bloccato Abitacoli Insegni luminose Uh che bello La tromba E vabbè Porta carichi tipo Ah ok No No Le lascio le trombe Comunque perché Tetto Antena tipo 3 Uh 700 euro per un'antenna No no Lasciamolo così ragazzi Vuoi davvero Abbandonare il garage Certo Spero adesso Di avere il nuovo camion Ed eccolo qua ragazzi Il nostro mitico Camion Andiamo subito A vederlo da fuori Ah è carino Eh Carino Ok io direi Di accenderlo No Eh Accendiamo i fari anche Perfetto Controlliamo le frecce Se vanno Uh belle le mie frecce Quelle piccole Così a led Fantastico ragazzi Beh questo qua Dovremmo essere Diciamo che in una botte Di ferro Diciamo perché Più E anche il rumore È cambiato E quindi secondo me Sì Devo solo andare a dormire Adesso perché Ok Ricopriamo le energie Ragazzi E andiamo Ok Tutto bello verde Gli pneumatici sono nuovi Ragazzi abbiamo 5.000 euro Ancora in cassa Abbiamo 8 Ruote ragazzi Adesso 4 e 4 abbiamo Quindi Dobbiamo andare Uh caspita Ma questo qua Sembra più scattante Ancora E frena meglio Allora Un momento Dovrei andare Io penso Da lui qua E quindi Mi conviene fare il giro Non per di qua Ma per L'autostrada Potrei andare dritto Di qua E facciamo questo pezzo Ok La prossima Ok 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 Ragazzi Perfetto Sì sì Facciamo così Perché Andare quelle stradine lì Mi viene solo che male Quindi Piano Eh non mi sterza Miga tanto però Questo Rispetto a quell'altro Comunque abbiamo Il nostro nuovo Bel camion Carino Mi ispira un sacco Mamma mia Però Eh Io ovviamente Off camera ragazzi Farò sempre dei percorsi A questo frena bene Però eh Caspiterina Gira di meno Sterza Sterza meno Però Oh Ci sta eh Vediamo un po' Come viaggia di velocità Devo stare attento A quel cavolo di Velox Perché mi fregano eh Mi fregano Uh già Cento è rotto Wow 115 116 Piano Frena Uh frena Uh inchioda Questo eh Miga frena Questo inchioda eh Ok qua c'è il semaforo Però Sterza Molto poco Qua devo sbrigare Andare veloce Perché arriva subito Il giallo Ok ragazzi Andiamo di qua Perché di qua Secondo me Ecco Di qua La tagliamo Perché se io vado di qua E poi mi faccio Questo pezzo qua Secondo me La taglio Piuttosto che fare Di tornare indietro di qua Fare tutto questo zizzac Anzi Addirittura potrei andare Per l'autostrada Fino a qui Fare un giro più largo Ma molto più veloce Più molto più comodo Lo sto solo attento Perché c'è un Velox Che non mi ricordo Dov'è Se è questo Ecco ogni volta Mi fregano Eccolo qua Eccolo qua E qui Perfetto Perché sono 450 euro Di multa Fuori città E se pensate Che una missione Un trasporto Mi dà 700 euro Ok Perfetto Come in chioda Ragazzi Ho frenato Già ancora Due metri prima Vediamo Facciamo sfida Con il Lamborghini Dai E però I fanali Che ho Gli abbaglianti Fammi vedere un po' No Non ce li ho Allora Ok Fammi vedere Che cacchia Rola però La strada Eh però Io volevo andare Di là Mi sa che era lungo La fine ragazzi A meno che A meno che Se andavo dritto Potevo andare Eh Vabbè ragazzi Vi salto sto pezzo qua Ci vediamo direttamente Da Da andrei Funare Ma un momento Ragazzi Adesso mi stavo Buggando un po' Eh Non è che lo specchietto È invertito Tecnicamente Sì Perché Ragazzi Guardate un po' In teoria Lo specchietto Non dovrebbe essere così Vediamo se cambio La visuale Ecco Dovrebbe essere così Lo specchietto Mamma mia Che fastidio Che mi dà Bisogna scrivergli Un'email Ai sviluppatori Al più presto Ragazzi Perché Perché Mi sta roba qua Allora Così lo specchietto È giusto Vedete A sinistra È perfetto A destra È perfetto Ma Dalla visuale interna Mi si bugga Al contrario Alla parte destra È giusta Ma a sinistra Ragazzi È al contrario Quindi Non so che Caspiterina Li hanno preso Per Per fare Sto cavolo Di specchietto Ma comunque Lo specchietto Ce l'abbiamo Al contrario Quindi Per fare Manovra Ragazzi Sarà ancora Molto più Mega Buggato Di prima E quindi Vabbè Ci vediamo Da Andrei Funari Dai Benissimo Stiamo arrivando Da Andrei Funari Vediamo un po' Ma sto palazzo qua Aumenta Uh Anche la radio Sopra Non mi ero accorto Deve essere Il cronotech Quello digitale Poi dovrebbe esserci Anche quello Normale Vabbè Comunque Incarichi Ragazzi Senza offesa Ok Ah Adesso abbiamo già L'ultimo trasporto Ah Perfetto Quindi Senza offesa Che devo fare Che bello Rivederti Ho un lavoro Su due livelli Per te Si tratta Si tratta di grossi carichi Ti interessa Oh caspiterina Certo Però non vedo Grossi carichi Forse devo andarla A prendere Un carico Di sabio Il nostro magazzino Locale Poi vediamo Come muoverci Ok Detto Fatto Anche questo Questo sterza Che caspita Cioè Devo tornare Dove sono venuti Vi rendete conto Per fortuna Che è vicino Per fortuna Che è vicini Sì Sempre lì Sempre lì Ragazzi Ok Andiamo su Vediamo Quanto riusciamo A arrivare 80 all'ora Nella strada di terra Con un camion 80 Fatto 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 Frenna Ancora bene Ma sterza Mica bene E no Vabbè Allora Ragazzi Ci vediamo Direttamente Da charlie Di zone Di charlie Dover Perché dobbiamo Prendere un carico Di sabbia Tostacqua La prossima Ah boh A sinistra E poi a destra Ma mi pare Che ero stato qua Anche per charlie Dover Mi pare Dovrei essere stato qui Anche per lui Quindi diciamo Che è un magazzino Di terzi Che non è Proprietà Di uno Proprietà Non proprio Che caspita Però Tanto il rimorchio Qui a sinistra Scommettiamo Eccolo lì Neanche detto Ragazzi Agganza il rimorchio Con la visuale Baggata Che c'è Proprio Sarà uno spettacolo Ma proprio Ci voglio vedere Ah invece È fattibile Dai Pensavo fosse Molto 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 Ok Fatto Ok Sabbia per noi Ragazzi Zubai Zubai Do caspita Zubai Midman Ah boh Vicino Vicino Perfetto Ottimo Per fortuna Abbiamo uno Piccolino Dai Zubai In arrivo Ragazzi Siamo arrivati Quasi A destinazione Un viaggio Abbastanza corto Mamma mia Eccolo lì Abbiamo inaugurato Il camion Ragazzi Ma se non sbaglio Mi sembra che adesso Fai delle sgommate nuove Non so se l'hanno aggiornato Se l'ha sempre fatta Boo Ok Speterina Comunque Sti specchietti Bagati ragazzi Non mi piacciono E comunque Quanto Caspita Consumo Sto camion Boo Veramente Consuma Non un sacco Di più Allora Quindi Dove Caspiterina Dobbiamo andare Qui In fondo Di solito Andavo prima A destra Ah beh Ah no no Qui Qui non sono mai Qui non sono mai stato Forse chi lo sa Oh che caspita Fermo Fammi passare Oh Oh che caspita Volevo suonare Dove parcheggiarmi qua Dritto Vediamo Ah lì a destra E c'è pure il cassonetto Che mi dà Fastidio Però Dovremmo farcela Mamma mia Quanto frena bene 90 E 100 Ah vai Guida fino a Buy Can't Per prendere Secondo rimorchio Ok dove Caspiterina È Buy Can't La sabbia L'abbiamo presa Ah beh Vicino Che è questo Quindi ragazzi Questa missione qua Era Una doppia missione Come quell'altra Che ho fatto Che ho perso il video E spero Questo di non perderlo Ah qua È una specie di Rampa Dove si mettono giù Le barche Perfetto Quindi andiamo Di qua Ragazzi Come sempre Io vi faccio Riassume Vi tolgo Vi elimino Tutta la parte centrale Del viaggio Vi faccio vedere Solo quando arrivo In proximity Però Una dormita Che dite Ce la facciamo Visto che siamo qui No No Ce la facciamo Ragazzi Non preoccupatevi Ce la facciamo Noi non temiamo Il sonno Ok Piano Ah no La prossima Non girare a sinistra Perfetto Vai canto In arrivo Mamma mia Quanto caspita Succhia Questo camion Ci ho fatto fuori Quasi metà serbatoio Per cose Per andare Dall'officina Lì Oh Qui ho precedenza Io Non rompetemi Le scatole Perfetto Ok Qui a destra Ah eccolo qua Perfetto Ah ma qui c'ero già stato Sì Deve essere il deposito Di Vedete Sul cartello Sembra tipo Le Ruo Merlin Quello lassù Senza Sponsor Però Ci sembra Questo sterza Veramente Dannatamente poco Poi seconda cosa Ragazzi che devo far notare Vedete Il volante è come un pezzo Che è buggato Vedete Allora così a dritto E sembra Buono Circa Però Se sterzo Vedete bene Che c'è un pezzo Che rimane Lì Però Ragazzi Non si può pretendere Tutto subito Penso che Risolveranno Penso e spero Ok Andiamo di qua Anche se Ho lo specchietto Contrario Ce la farò Ce l'ho fatta Perfetto Quindi Allora Dobbiamo andare Adesso dove Da lui Appena adesso Mi risponde Eh vabbè Penso che Dovrei portare Devo portargli La casa sua Bene ragazzi Io ho notato Una cosa Che Sembra Che è proprio Come non avere Rimorchi attaccato Con questo bestione qua E non oso immaginare Col motore potenziato Ragazzi Wow Che bestie che sono Allora Proprio un camion Bestiale Di quelli che Spingono a maneta Ragazzi Parcheggio che Sembra facile Ma questo Caspita De camion Che perché Sterza poco Comunque ci stiamo Radrizzando Dai 90 E ci andò Ecco fatto Speriamo di aver finito qui Notevole Vabbè Ragazzi Io purtroppo Mi fermo qua Perché come vedo Che Ah questo è bello Questo clacson Ragazzi Io mi vedo Allora mettiamo le quattro frecce Giusto per provarle Vediamole Ah che belle Ragazzi Ragazzi Io mi fermo qui Giustamente Perché ormai il tempo Se ne è volato Come sempre ragazzi Prima di iniziare Di finire Questo video Vi invito sempre A mettere mi piace Ragazzi Iscrivetevi al canale Se avete fatto E noi come sempre Ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti